Siamo qui, ore prese da un orologio Ground Zero per i performance, ore 2 e un quarto Ma lei sul telefono, poi la gente si... Eh che madonna si è combinato, si è toccato tutto Eh sì, 2 e 16 Sì, 2 e 16 zazza danno Ma perché? Vabbè, comunque, siamo qui Batterie cablate, amplificatori cablati Tutto bene, Tim scrivi sound power string 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 La facciata che è diventata un porto oggetti Alternatore collegato Questo sacotto che non funziona? Porco Dio Ma porca madonna zazza Tena Che tengo ormai così roto? Che la botta, la mattina sta stuccata È bello, va, è chifa Allora Dicevano Hai avuto questo cazzo, Lucci Allora Grazie.